Ciao ragazzi, abbiamo appena lanciato la nostra prima meravigliosa T, che è stata di questo momento Era una maglietta di Procaspirazione, c'ha stampe serigrafate da ragazzi di Sberi Sali Lab a Milano Davanti, da dietro c'è la scimmietta della Procaspirazione Davanti invece la definizione di Procaspirazione, quella che dovete sui dizionari nei prossimi anni con certezza quasi assoluta La trovate nel nostro store e insieme alla t-shirt avete anche la show per Procaspirazione Che è meravigliosa, fatta anche questa in cotone, riciclabili e se la metti in un terreno cresce un albero E anche gli adesivi Magic, come si chiamano questi? Turbo Blast Olografici E ci saranno anche altri E ci saranno anche altri ovviamente perché a noi ci piacciono un sacco gli adesivi Tutto questo lo trovate in pre-order fino al 31 di ottobre alle 23.59 sull'etrobottega di Caffè Sani Questo sito splash straordinario Solo pochi giorni Alcuni pochi giorni L'altro è chiaramente di Micillogico, non me lo chiede nemmeno perché ovviamente meraviglia assoluta Il link è in la descrizione E vabbè niente, quindi moce è l'episodio, quindi spaccatevi però E questo rimane lì Ciao amici, grazie Ciao Anche le cromie di fatto, chiaramente vediamo subito La A è un chiarissimo rimando all'Italia E anche appunto a punto di vista cromatico Mi ricorda Katara Airways Solo per Airways? Ma Katara Airways? Ah è vero No perché è tutto così un po' Perché è un po' arabico Arabeggiante Ma questa roba qui ha un nome in termini di forma Lo Swanser Sì ce l'avranno Questo penso che Raccorzio Va bene sì Scriveteci se avete lì Raccorzio Va bene Ma lui è Gabriele Garco? Lui è Gabriele Garco Prima dell'operazione Lui è, capalesemente in verità, è Gabriele Garco La maschera di Gabriele Garco Buongiorno 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 Non ne posso più di quel cretino che urla Cheat oppure da quanto Rocco Hunt si occupa di disegno questo è bella questa è stato il mio commento io spero che ce l'avessero con te Rocco Hunt se ce l'avessero con me è il complimento più bello che potete fare se ce l'avessero con te se ce l'avessero con te è bellissimo vorrei tatuarmelo grazie è uno dei commenti più belli quindi grazie grazie di questi commenti straordinari che ci lasciate ogni settimana continuate così non c'è problema assolutamente va bene finalmente siamo tornati a raccontare quello che è successo l'altra settimana sì Giuliano Nanni Rocco Hunt Gigi D'Alessio Clementino Giu ti ho detto che dobbiamo iniziare a presentarci ok sì Breccia Giuliano Nanni Nanni sono io auguri benissimo io ho i nostri nomi ovvero originali esattamente tre designer che dicono cose meravigliose molto bene prima di iniziare la puntata però volevo salutare anzitutto la nostra giraffa per i più attenti se saranno accorti che non c'è più perché l'ho fatta cadere di sulle mille pezzi salutiamo la giraffetta non è mai stata una giraffa è una giraffa me l'ha detto mentre si rompeva sono una giraffa comunque sono una giraffa ed è morta no però cercheremo di ripristinare come si chiama il Kitsugi Kitsugi molto bene utilizziamo termini inclusivi altra cosa che volevo salutare era invece i nostri amici Sara e Michi che sono completamente rotti da questo arrivo dell'inverno si spaccano la schia si spaccano le braccia viviamo in un ospedale in questo momento Caffè di Sani in un ospedale la terza persona che volevo salutare invece non è una persona ma è lo sponsor di questo episodio che è Tate fornitore di gas e luce tech meravigliose persone straordinarie che abbiamo avuto anche il piacere di incontrare e conoscere la dice tutto esatto esatto il solo fatto che abbiamo deciso di collaborare con noi è meraviglioso e poi vi spiegherò anche perché principalmente ve lo dico subito uno dei motivi per cui sono contento è perché condividiamo moltissimo il tono il linguaggio freschi senza cazzi problemi molto divertenti emozioni cosa che c'è non ti usa le parole per dire senza cazzi d'altro loro dicono zero bullshit la comunicazione zero bullshit e anche la mia dirò le parolacce come l'italiano senza cazzi pitch va bene ne parliamo dopo di tate grazie comunque ti denuncio grazie grazie mille dai breccia tocca a me in questo episodio all'italia cambia nome e diventa ita avremo anche un commento dell'esperto i treni ispirati a wes anderson sono realtà perfetti per il vostro instagram la nuova van move che è una bici costa 3500 euro e va che è una scheggia sono brava cos'è il tgr questo hanno finalmente messo un cannone sopra a robot cane quello che avete visto in giro e cos'altro ci metteranno io lo so cosa ci metteranno va bene va bene altra cosa è detto cannone questo episodio a questo punto sarà demonetizzato perché solo io posso dire parolacce cose strane perché youtube non mi capisce il commento più emozionante la settimana scorsa è stato questo che ringrazio davvero posso dire tutto quello che voglio non mi capirà nessuno bene iniziamo con ita finalmente santo cielo al secolo al secolo al tgr anche lì è successo alla fine dopo un trambusto clamoroso alla fine all'italia non esiste più di fatto esiste questa ita che è appunto la nostra nuova compagnia di bandiera meravigliosa che emozione che bello ci si accappona la pelle a vedere questo logo straordinario il logo è questo qui sarà in realtà sei tu che sei un po' storta quindi non riesci a stare ma mi sposto da qui non c'è problema tanto io non ho mano alla schiena quindi che vogliamo che vogliamo che vogliamo dire allora niente allora che vogliamo fare che vogliamo fare allora dai spendiamo due parole su questo come vediamo è stato fatto all'italia finalmente finalmente scusate finalmente alla fine dopo essersi trascinata così tanto è fallita posso dire che non ricordo il momento in cui l'italia fosse la mia nascita in cui l'italia fosse al sicuro tipo una botte di ferro infatti è quello uno dei motivi per cui a un certo punto è successo è nata ita fondamentalmente è un'altra compagnia che però prende ne eredita appunto tutte le tutte le sue anche le cromie di fatto chiaramente vediamo subito la A è un chiarissimo rimando all'italia e anche appunto dal punto di vista cromatico mi ricorda Katara Airways solo per Airways ma Katara Airways no è vero scherzo no perché è tutto così un po' perché è un po' arabico arabeggiant ma questa roba qui ha un nome in termini di forma lo Swenson sì ce l'avrà questo penso che raccorgio va bene sì scrivetecci se avete il raccorgio va bene ma lui è Gabriel Garco lui è Gabriel Garco prima dell'operazione lui è capalesemente in verità è Gabriel Garco la maschera di Gabriel Garco cioè lui l'hanno truccato da Gabriel Garco è tipo il programma degli imitar tale e quale show Gabriel Garco che è imitar Giovanni meraviglioso allora quindi stai a lanciare la nuova identità degli imitar il sito eccetera ho trovato un account Instagram in questo momento ancora di gitar in tutta la stessa probabilmente ancora è nato e insieme chiaramente anche lo spot che forse avete visto in tv di lancio stanno pazzer a me piace lo spot è molto poetico ti piace lo spot il brand mi piace lo spot è il classico storia strappalacrime però è un bello spot c'è una bambina che la protagonista stiamo avendo in questo momento che dice cose veramente molto poetiche tipo non diresti mai una rosa se una spina ti appunto no non diresti mai tutte le rose se una spina ti appunto si sta scusando perché anche ita farà tardi si capisce molto dallo spot in realtà quanto è questo poi è evidente ma evidente anche perché se avete seguito anche la cronistoria dell'episodio che ha portato a ita quanto la cosa sia successa veramente in tempi strettissimi c'è tutto il passaggio poi il fatto che a un certo punto si è comprato il brand di alitalia per 90 milioni quindi si chiamerà italia si chiamerà ita bu evidentemente non sapevano nemmeno loro dentro che le persone che ci stavano lavorando possiamo dire che ci stava lavorando in maniera spiegata vpp è quella che ha preso appunto tutta la comunicazione di ita del gruppo ita alla fine come si chiama vabbè edita e poi dopo ci ha lavorato al branding specifico le va cioè le varie aziende all'interno gruppo iti tra cui l'andor ha lavorato al branding qual è quella invece al video la vml invece la parte di comunicazione quindi comunque alla fine all'interno del gruppo ti sono divisi il il progetto perché dico questo perché dico questo perché di fatto lo spot potrebbe essere di qualsiasi cosa secondo me ci sono più livelli per commentare questa notizia uno è sicuramente mi piace non mi piace che onestamente io faccio sempre molta difficoltà a commentare così perché chi se ne c'è nessuno me l'ha chiesto se mi piace chi se ne frega cioè è bello e brutto a me non dispiace è un aereo non è che dico prenderò l'aereo più bello che vedo non mi interessa solitamente anche perché ryanair fa cagare solitamente volo con ryanair bene salutiamo ryanair però ci sono dei casi di casi studio di aerei con comunicazione incredibile cioè quello air france che va fatto la storia no infatti sì c'è per carità è molto bello quando comunicano bene però sono comunque c'è per me sto mettendo il mio sono servizi cioè sono non scelgo la compagnia aerea ma certo e quindi per il logo sì esatto per il logo perché in questo momento vediamo solo il logo cioè magari hanno un biglietto fighissimo possiamo vedere anche la livrea che comunque non puoi scegliere che dici voglio volare sull'aereo con livrea blu o con l'aereo sull'aereo molto bello ma non funziona così a me piace ma si può usare un aereo tutto blu perché si confonde col cielo dici non lo vedono chi gli alieni no è gli uccelli è vero gli uccelli poveri ma che cazzo stai dicendo ma gli uccelli non volano a 12 milioni di pieni della come si chiamerà la lipu tipo lega protezione uccelli credo che non so perché lo so ma credo sia questa cosa questo è lo show più importante scusami lei ha protezione uccelli c'è pure un picchio non lo so ho visto troppe volte teletop contro bambino forse era capitava in quella trasmissione guardalo eccolo là se qualcuno conosce qualcuno all'ipu è pregata vedete se effettivamente è un problema per gli uccelli perché questo potrebbe essere effettivamente un'argomentazione interessante io adesso lancerò una piccola cosetta perché quando succedono ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che abbia a che fare con i rebranding o il branding comunque che abbia a che fare con la nazione specialmente l'italia quello che è noto è che facciamo fatica a trovare un'identità nazionale cioè in senso questo qua è uno stile italiano lo so che non vuol dire niente nel 2021 però per esempio lufthansa no tu lo vedi lufthansa il brand ed è chiaramente tedesco o perlomeno cioè è chiaramente di quelle parti del mondo dai però più italiano di così ecco sarebbe lascia perdere l'azzurro sto parlando proprio dell'identità visiva in questo momento lascia capite dell'azzurro nazionale se la nazionale cioè quello sto dicendo ma è solo una riflessione non vuol dire niente anzi magari stiamo assistendo in questo momento e non ce ne stiamo accorgendo a un nuovo modo di comunicare italiano non lo so però è una piccola secondo me invece un'altra cosa che succede quando uno va a commentare queste i rebranding è che uno pensa come sarebbe potuto essere invece di come cioè fondamentalmente questo è in qualsiasi modo sì esatto cioè potrebbe essere in qualsiasi modo potrebbe essere cento volte più bello mille volte boh ho già messo un tizio con i baffi che cosa? Luigi Airline Mario Airline Mario Airline sarebbe stato bellissimo con le ruote sotto l'aereo gigante l'aereo gigantesca e sparava cartarughe vabbè insomma questa è un'ultima cosa notiamo sulla livrea un pattern che sono curioso di vedere in altre circostanze esatto di sapere come si utilizza perché un'altra cosa è che quando vediamo questi rebranding non vediamo solo qui c'è veramente poco sì vediamo la punta dell'iceberg in questo caso il logo istituzionale il logo che verrà utilizzato e la livrea che però contiene un bel po' di elementi cioè banalmente come verrà usato questo azzurro metallizzato come verranno utilizzati tutti quei dove e come magari l'aeroporto sarà tutto pieno di ste robe qua non ho idea di come sarà utilizzato questo è tra i peggiori mock-up che abbiamo mai visto in tutta la vita è il 2D questo non c'è tridimensionalità non c'è la tempo è metallizzato però è metallizzato questo è 2D è uno sticker il blu il blu azzurro metallizzato così riflette il sole e crea un buco nell'occhio della gente che li guarda va bene un'altra ultima cosa ancora no no il finisco a me invece interessa magari come cioè questo progetto qua è un progetto interessante secondo me dal punto di vista dei tempi perché appunto come dicevi tu all'inizio è un progetto di tempi folli dove la stampa non riusciva a stare dietro e immaginate a la gente che deve farle queste cose e lavorare con più agenzie perché erano tre agenzie che lavoravano in parallelo su proposte parallele perché alla fine loro hanno comprato il brand all'Italia sì ma prima era già uscito questo sì era già uscito cioè c'è stata una susseguirsi di cose la stampa che diceva una cosa la verità che succedeva un altro cioè che folle probabilmente anche loro stessi hanno appreso alcune cose dalla stampa sì capito cioè lavorare a un progetto del genere così grosso solitamente ti espone a ritmi strani cioè non se non folli non sei in potere no? di dettare tu le regole assolutamente perché appunto ci sono gruppi giganteschi che mettono i soldi ci sono forze che vanno controllate e secondo me però è una cosa bella di questi progetti che comunque poi nascono e escono cose sì assolutamente potrebbero essere molto peggio potrebbero essere fatti con powerpoint da proprio quell'uomo che ha commissionato il progetto è benissimo quell'uomo è tuo zio no vabbè no questo è assolutamente vero è appunto la cosa che volevo aggiungere appunto quella lì anche nel video nello spot si vede che loro pompano molto il fatto che c'è scritto born in 2021 quindi è come se fosse un nuovo inizio è il fatto che siano cioè alla fine va trattata come un brand neonato fondamentalmente perlomeno questo è quello che vorrebbero far uscire a via della poesia è quello lì che commenta però il font non mi piace ho capito è un progetto di una complessità secondo me che è interessante solo per la complessità del progetto ma ricordiamo anche soprattutto io voglio fare un applauso e un abbraccio ai ragazzi di Landor che è il secondo merdone che si appioppano quest'anno che perlomeno abbiamo raccontato noi l'altro era quello del logo delle olimpiadi invernali ragazzi cioè quello non è facile anche psicologicamente da sopportare esatto però è quello quando sono progetti così grandi di interesse nazionale arrivare alla fine è un successo è un successo però sì perché alla fine sono persone quelle che lo fanno però mica lo fanno capito crea logo va bene ok quindi ovviamente se avete qualcosa da dire sul brand di Ita a questo punto di Italo di Italo di Italo e noi prima di andare avanti appunto come vi dicevo all'inizio della puntata vi parliamo di Tate che è lo sponsor di questa puntata anzi di Tate è incredibile cosa fanno Tate in realtà molto semplicemente è un fornitore di energia gas e luce quelli che tutti abbiamo fondamentale a meno che non pagate le bollette a meno che non vi attaccate al vicino al famoso al traliccio che voi siete le hanno levate a poste voi chi scusa voi no generalizzando napoletani sono persone meravigliose a meno che non fate questo tipo di cose pagate anche voi le bollette di energia di gas e luce Tate è uno di questi fornitori tuttavia invece cioè contrariamente a quelli più generici e quelli più storici i classici quelli che probabilmente utilizzano i vostri zii esatto Tate in realtà è particolarmente nell'altro specifico una compagnia tech principalmente è questo appunto una digital company fondendo le tue cose insomma ci rendiamo conto che l'esperienza che Tate garantisce in termini di controllo anche rispetto a quello che spendi nella bolletta è estremamente avanti anni luce assolutamente esatto perché noi parliamo di un settore del genere semplicemente perché è come lo vorremmo noi assolutamente perché davvero sono settori che sono complessi e sono gestiti spesso in modo molto vecchio e finalmente mi aiutano a capire cosa sta succedendo e cosa devo fare assolutamente ovviamente appunto la loro attenzione è rivolta molto a UX perché è tutto quanto digitale per l'appunto quindi controllo con app assoluto e i prezzi sono estremamente trasparenti l'apertura ci dicevamo loro in dieci tap quindici tap boom 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 fatto non capisco comunque in Fast and Furious riesci a cambiare anche dal tuo vecchio operatore a passare a questo e come dicevo prima la cosa più figa di tutte in teoria è che loro appunto comunicano in maniera completamente trasparente completamente scialla c'è la chat ti risponde in cinque minuti se hai problemi se hai avviamenti nervosi eccetera quando uno presenta queste cose sembra cioè io non so quanti poi che ci ascoltano gestiscono la la propria bolletta esatto però quando tu lo fai dici com'è possibile che funzioni in questo modo cioè tipo ti dicono mandami la raccomandata cioè quelle cose che veramente dici siamo nel 2000 cioè dimmi come fare esatto e questo qua cioè è presente esatto è la risposta a questo problema qui cioè è fatto com'è possibile questa cosa che funzioni ancora come i nonni qui invece no assolutamente no quindi tutto mega fast quindi se voi avete se per esempio siete in affitto prendete il vostro proprietario dell'appartamento lo mettete su una sedia e lo costringete a passare a Tate esatto perché che cazzo c'è io non ne posso più di trovare la cosa nella buca della letra e non so quanto pago non so quanto so poco quale la buca è tra lì esatto cioè la prendo la apri la apri la strappi e dici oh aiuto mesi abbiamo consumato un sacco tra l'altro a me piace molto il fatto che la bolletta attuale la mia poi non so magari degli altri se è diversa arriva ogni tipo tre mesi di solito arrivano in tre mesi e non capisco mai come faccio a ridurre invece allora ti arriva ogni mese così sai se effettivamente hai consumato tanto ti puoi aggiustare eccetera eccetera facile facile abbiamo anche un codice sconto assolutamente sì il codice sconto che trovate nel link qua sotto pigiatelo lì vi porterà a una pagina il codice sconto ragazzi questo già è meraviglioso è caffè che nessuno sa pronunciare altra me perché contiene nove e signore e signori contatele uno ad una non stiamo scherzando il codice è caffè no no tu hai messo una lettera in più vedi è perché lo so dire solo io no allora questo ti fa capire quanto loro siano completamente accondiscendenti nelle nostre richieste perché quando ci aveva detto volete se vi facciamo un codice sconto personalizzato abbiamo scriviamo caffè design Giuliano ovviamente ha detto no possiamo avere caffè con nove e sì l'ho detto sì ok perfetto io ho adorato questo momento quindi per favore veramente per favore andate scrivete caffè e nove e e nove e caffè nove e semplicissimo perché nove perché sono tre a testa noi siamo democratici mi sembra più che è normale assolutamente quindi nel sito puoi andare addirittura a fare una simulazione nella stima della vostra bolletta eventuale per cui guarda più facile di così io non so più che dirvi meraviglioso grazie mille andiamo avanti avanti sai come un trenino nanni ecco ti ci metto su un treno perché parliamo di treni signori e signori perché è stata una gioia è stata una gioia vedere che riparlare di Belmond che io avevo l'avevo visto che c'era del c'era il fuoco c'era il fuoco in questa azienda perché questi qua sono quelli che avevano fatto il treno della dolce vita la proposta con Trenitalia del treno della dolce vita che era sto treno che faceva le tratte italiane tipo crociera ma sui binari perfetto adesso ha preso un treno ha preso Wes Anderson gli ha fatto scontrollare fammi un treno perché appunto innamorati dell'estetica di Wes Anderson hanno detto fammi un treno ovviamente un treno di lusso un treno per viaggi esperienziali ti droghi e quindi l'ha fatto fare Wes Anderson la domanda che vi vorrei fare è molto bello quando Wes Anderson è un designer è assolutamente un designer al di là del suo lavoro è un esteta sì assolutamente però appunto lui ha scelto tipo le stoviglie tutto quello che non ha fatto fare commissionato erano appunto scelte da lui tipo veramente i piatti i bicchieri cioè è tutto curato bellissimo lui infatti era molto contento nell'intervista diceva ragazzo cioè solitamente non mi capita di fare treni ma sai quanto è bello dobbiamo fare un treno bellissimo però vuol dire quanto è potente la tua la visione di Wes Anderson la tua estetica cioè quello che vedi tanto che un'azienda ti chiede di farlo cioè una cosa è un film cioè ci sa che è un film uno dice prendo Wes Anderson come regista un'altra cosa è dire io faccio treni e voglio che me lo fai come lo vedi tu esatto quello è un obiettivo di vita si chiama Cygnus Cygnus non so pronunciarlo non ho idea come si pronunci e quindi non farlo comunque sì assolutamente tra l'altro potrebbe benissimo sembrare il set di un film di Wes Anderson ovviamente di conseguenza quindi non so se lo Starbatch ve lo sta mostrando è uno di questi treni qua mega premium orient express cose del genere una british icon molto figo questo fa il giro dell'inghilterra se non sbaglio perlomeno di una delle zone dell'inghilterra estremamente bello e sì assolutamente Wes Anderson è un designer ha una visione potentissima quindi fico andare a conoscere questo brand anche a questo punto perché comunque anche le altre cose che fa c'è cose bellissime obiettivamente quando ti capita a me sicuramente è un buon riferimento come sito premium come servizio premium perché c'è un'estetica molto particolare anche nell'utilizzo delle mappe eccetera eccetera beh benissimo la nice UX di breccia esatto molto bene allora perfetto stiamo sulla strada ma invece senza rotaie perché c'è stata una collaborazione molto figa tra Waze e Headspace e Space se lo conoscete sono un po' tipo un incrocio oddio scusa non un incrocio una collaborazione di quelle lì che dici come hanno fatto a non pensarci prima aspetta io ancora non l'ho capito il motivo allora Headspace si occupa di meditazione e rilassamento e Waze sono le mappe beh allora vai a Napoli scusa non volevo prendere la passata con Napoli però è un esempio dove però ci sono un sacco di persone che conosco e un sacco di persone squisite persone squisite solari veramente o maro solo grazie grazie a tutti i napoletani che ci seguono perché loro capiranno bene che immagini di stare non so dammi la via più trafficata di Napoli via Caracciolo perfetto via Caracciolo e mettiti nella condizione a Mecellina a Mecellina a lunedì la mattina di lunedì non si capisce niente traffico bestiale tu devi dimmi quante urla sentirai da quelle autoverture uscire lì perché c'è qua là che taglia l'incrocio c'è qua là che passa con il rosso semplicemente senza tutto questo creambolo basta immaginare il momento della guida è un momento di grosso stress specialmente nelle città specialmente a Napoli è un servizio digitale che si occupa di calmarti di comunque farti unirli è una cosa bellissima mi piace gira a destra ma non guardare quel tizio che vuole rubarti l'orologio immagina avere appunto c'è quello che c'è le mappe di Waze e a commentartene c'è a dire quello che devi fare c'è la voce di Espace c'è Giacobazzi c'è Giacobazzi alla rotonda non prendere la guida non prendere la guida ancora non ci sono scrivendo sbaglio non ci sono non prendere la guida no in realtà no però meno quella che possiamo vedere qui non è solo uscita a vela perché chiaramente non esiste in Italia una cosa del genere quindi non è visualizzabile però in sostanza l'idea è quella di farti tu sei questo pallone questo pallone ero statico questo pallone ero statico e ti fa andare tranquillamente come un pallone per l'estate ti dice vedi esci a sinistra focalizzati sulla strada davanti a te molto rilassato in sostanza ma è fantastico commento veloce se io fossi comunque nervoso al mattino e questo qua mi dicesse stai tranquillo prenderei il coso lo lancerai ma tu l'hai mai usato Headspace ho capito ma ti fa venire comunque il tempo vedete quello lì tipo su Netflix se per sbaglio lo lasci no non ce la fai non ce la fai ma non è vero ti entra dentro ti entra nell'anima e te la prende e te la mette tipo in un marshmallow cioè è impossibile non puoi essere incazzato non ci credo se sei incazzato cioè sei tipo il Grinch cioè non è possibile cioè non puoi stare incazzato con quella voce che ti dice adesso svolta a destra ma ti do un pugno e respira profondamente chi è rabbioso come me ecco capirà questa questione molto bene andiamo avanti parliamo di biciclette gigantesche e molto costose e questo è un brand che vi consigliamo comunque di andare a vedere a prescindere ragazzi perché secondo me è uno dei più fighi in generale si chiama Vamoff che non è una parolaccia napoletana assolutamente ma è questo brand di biciclette allora brevemente appunto ve lo facciamo anche conoscere perché io l'ho conosciuto poco tempo fa e Nanni ovviamente lo conosceva da 6 mila ma che vuoi ok va bene va bene nonni cosa c'è da dire di fuori il fatto che sembra una moto no appunto secondo me la cosa interessante di questo cioè questo qua fondamentalmente è biciclette di lusso cioè sezione biciclette di lusso non di lusso ma molto costose ok è Tesla delle biciclette esatto è la Tesla delle biciclette fondamentalmente dico costoso perché sta a 3.600 euro potenzialmente compri qualsiasi scooter sia benzina ok che non voglio dire eresia che è elettrico si ok loro con il loro prodotto il servizio comunque hanno un'app integrata tutte le robe riescono comunque a aumentare tantissimo la volontà di spesa di una persona per una bici secondo me questo è un plauso dove sono sono olandese pare delle biciclette però dai cazzo a prescindere da tutto è veramente bello bravissima a comunicare a lanciare i prodotti adesso sta bici è tipo un cararmato ma sta bici fai una pedalata va a 50 all'ora a me don non grazie a te onestamente onestamente io non lo capisco cioè sarò mi piace è bellissima è grandissima ma va a 50 all'ora quindi comunque ti devi mettere un casco è pericoloso un'assicurazione magari te la fai pure beh sono 3500 di bicicletta no uno due se ti schianti dentro una macchina a 50 all'ora va gliela a spiegare al vigile una bicicletta se investi una persona a 50 all'ora cioè se fa male se fa male non lo so no però è una roba quella è un po' la domanda ha senso quanto è uno scooter un po' troppo oltre un po' troppo oltre va bene ma non vuoi rispondere no io breccia io sono no no io devo tagliare che c'è il tassativo cioè siamo a 30 minuti allora la puntata è finita grazie a tutti è stato un piacere incredibile incredibile vabbè dai andiamo avanti l'ultima notizia invece parlando sempre di tecnologia che vi vogliamo far vedere è faccelo a vedere non è questa non è questa non è questa perfetto finalmente se c'era il cane robot teneroso e cuccioloso sì che noi volevamo qui nello studio adesso finalmente gli hanno messo un cannone laser sulle spalle così come nella puntata di come si chiamava Black Mirror perfetto con il cagnolino che ti insegue per ucciderti adesso cioè un finalmente qualcuno ha detto perché non lo facciamo è il genio è il genio così ha aperto finalmente le porte all'estinzione di massa esatto a essere uccisi da un cazzo di robottino che piacere peraltro la cosa interessante di questa notizia è che è una collaborazione tra uno che faceva fucili e l'altro che faceva robot hanno dei nomi incredibili uno si chiama Sword International e l'altro si chiama Ghost Robotics allora Sword International non c'è niente di buono esatto non c'è niente di buono in queste società c'è proprio niente di Ghost Robotics al contrario io mi immagino ammazza di là uccideremo per te io gli uffici loro li immagino il contrario proprio l'esatto opposto degli uffici di Headspace ah sì sì dove fa bene cioè lì sono tutti dai siamo amici bello sto fucile no no madonna completamente contrario pagami il caffè merda tipo cioè lì ma come fai a lavorare sui fucili è vero comunque senza perdere la calma penso soprattutto e non essere in un videogioco eticamente no no eticamente è un discorso troppo difficile certo ma dico cioè proprio fisicamente cioè non puoi litigare con nessuno tu c'è sempre a rischio decisamente cioè scusami immagini una lite furiosa da ufficio in un ufficio che fa armi ci saranno le armi in giro sicuramente immagino qualcuno le mette in groppa a un robo cane e mi sembra più che normale tutta onestà anche se non è bello no no è normale ma non è bello e il mondo è brutto è terrificante ed è anche colpa nostra vabbè comunque vediamo che succede speriamo di noi sapevamo che sarebbe successo era banale il fatto dietro l'angolo va bene perfetto alla grande per chiudere la puntata breccia avevi una comunicazione importante da farci per caso sì una comunicazione che racconteremo in dettaglio settimana prossima vi lasciamo un link qui se siete appassionati di challenge siete studenti siete professionisti praticamente TAG Talent Garden e Red una società che si occupa di creare Smart District hanno iniziato questa challenge che vi lascio vi faccio vedere il sito qui si chiama Innovami dove potete appunto applicarvi e proporre la vostra proposta di diciamo Smart District del futuro di come dovrebbe essere la Smart District del futuro sì ripeto ne parleremo settimana prossima meglio vi volevo solo dire che il vincitore vincerà 14 giorni a Fuerteventura quindi le candidature sono aperte sempre il suo discorso di fare provare a fare cose questa è una figata perché comunque cazzo fare uno Smart District è una roba molto bella è un quartiere è un quartiere del futuro cioè ti metti a progettare come potrebbero vivere le persone la vita nel futuro sì esatto la vita di quartiere del futuro quindi se non vi interessa una cosa del genere è qua giù e qua siamo sempre a colorare tra l'altro noi faremo parte dalla giuria di questa cosa per cui insomma e poi Nanni vese in cazza e quindi dare una spulciata all'inxotto e poi ne parliamo meglio la settimana prossima in ogni caso voglio ringraziare anche Claudio Abessi per la copa di questa settimana che stiamo vedendo in questo momento ringraziamo come si chiama il cerotto di Sara Dolore Lax speriamo vada a buon fine e anche quelli che hanno inventato questo nome e anche quelli che hanno inventato un applauso Dolore Lax ci vediamo giovedì ciao belloni ciao 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 ciao